Questa è Marina del Cantone Hai capito Marina del Cantone Un micio De la pallinina guarda Un micio Sono i super stanto Dove sono i super stanto? Dove sono i super stanto? Vengono i super stanto? No, in genere, è stato Non è che ci sono i super stanto? Sono i super stanto? Sono i super stanto? Grazie a tutti. Grazie a tutti.